E' uno straordinario Peter Sagan a vincere il Giro delle Fiandre 2016. Il campione slovacco è riuscito nell'impresa di vincere la sua prima classica monumento in maglia eridata, giungendo da solo sul traguardo di Udenardi in occasione dell'edizione numero 100 della classica Fiamminga. Battuti Fabian Cancellara e Sepp Van Marche, che nulla hanno potuto contro lo strapotere tattico e fisico del corridore della Tinkov. Il gruppo degli inseguitori è stato regolato da Alexander Kristoff. Grazie a tutti.